I numeri di solito parlano e spiegano tutto. In provincia di Ragusa ad esempio le edilizie bocchegge con le imprese che l'anno scorso si sono assottigliate di circa 200 unità, mentre di conseguenza è scesa l'occupazione degli operai passati da 4.500 unità nel 2012 a 3.500 l'anno scorso con un decremento del 20%. Allo stesso tempo la massa salari è scesa ancora passando dai 32 milioni di euro ai 24 del 2013 con quasi il 25% in meno. E' a conferma di questa ibrida situazione che tiene il comparto sotto scacco e tra l'altro non si entravede una breve via di uscita, si sono i dati dei sindacati, in questo caso la Filca Cisle, che punta l'indice sulle gare di appalto in provincia e i numeri anche in questo caso parlano chiaro, ossia con ben 16 gare espletate in meno nel 2013 rispetto all'anno precedente e come è avvenuto spesso in altri settori anche nel caso dell'edilizia in provincia tocca il poco invidiabile fanalino di coda tra le consorelle dell'isola, un calo che si aggira attorno al 33%. Sott'accusa naturalmente le grandi opere infrastrutturali rimaste al palo, i sindacati puntano l'indice in particolare sui lotti dell'autostrada Siracusa Gela, sulla superstrada Ragusa Catania e sul porto di Donna Lucata. Sbloccando queste opere, rimarca la Filca Cisle, i lavori potrebbero dare occupazione ad almeno 2.300 persone con innegabili ricadute positive sull'intero comparto.